Amici sportivi, a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati. Apriamo con il calcio, dunque sabato al Mazza di Ferrara torna una classica del campionato di Serie C, ovvero Spal-Lucchese. Due pareggi in casa e due vittorie in trasferta, finora per la lucchese di Gorgone, che ha svolto la rifinitura in vista della difficile trasferta di sabato al Mazza di Ferrara. Pochi giorni per preparare al meglio una delle sfide per Antonomasia più sentite, anche storicamente, dell'intera Serie C. L'attualità ci induce invece a pensare che dopo quattro giornate a punto di campionato, Gorgone comincerà a trarre le sue conclusioni. Lucchese tipo? Ormai si parte in 11, si gioca in 16, la Rosa deve contare almeno su 20 giocatori di livello se si vuole essere competitivi. Vero però che il 47enne tecnico romano un suo 11 ideale ce l'ha ben impresso nella testa. Detto che siamo alla terza partita in sette giorni, noi proviamo a snocciolarlo così. Chiorra in porta, Lagna, Tiritiello, Benassai e De Maria in difesa, Guccher e Gibrilli in mediana, Cangianello sotto punta, Guadagni e Fedato ai lati del centroavanti Magnaghi. Il pallone racconta che la Lucchese torna a Ferrara dopo ben sette anni da quel pesante 0-3 incassato e che vide protagonista con una tripletta tal Cellini. Oggi la Spalca ha vissuto i fassi della Serie A e poi precipitate in un baleno nell'inferno della C è un'altra cosa. I bianco-azzurri di Mimmo Di Carlo sono reduci dal blitz sul campo della Juventus Next Generation. L'hanno fatto con una prova gagliarda e con tenacia, tanto che il gol di Bertini è arrivato in pieno recupero. La Spalca ha grande nome Blasone e giocatori di ottimo livello, ma forse l'amalgama e l'assieme ancora non ci sono. Toccherà la Lucchese metterne a nudo tutti i difetti. I rossoneri tra l'altro non saranno soli, oltre 250 i biglietti già venduti, tanto che alla fine su Portres della Pantera potrebbero superare abbondantemente quota 300. E sempre in tema di Lucchese andiamo ad ascoltare il tecnico rosso-nero Giorgio Gorgone come inquadra la trasferta di Ferrara. Una partita difficile contro una squadra forte che punta la vittoria del campionato, però di partite facili ne ho viste poche, ne vedrò poche, penso, quindi basta pensare a Sessi Levante, a Ravenna. Quindi una partita in un bel campo, con una bella cornice, contro una squadra attrezzata, quindi ci possiamo misurare e vedere a che punto siamo. La Lucchese come si presenta? Ma intanto è una bella cosa, mi fa piacere, le ringrazio, le ringraziamo come squadra perché è un supporto importante sempre. Si presenta con la consapevolezza di poter fare la partita, con la consapevolezza di poter anche subire la partita contro una squadra di un livello più alto secondo me. Ma vediamo, sì, qualche cambio ci sarà, però in questo momento, come ho detto l'altra volta, è giusto dare anche un po' di continuità, a discapito purtroppo di chi non gioca, però favorendo quelli che stanno giocando, che stanno mettendo comunque partite intense e importanti dentro. Il calcio di Serie D, già lo scorso anno il Tau Calcio giocò a Ghivizzano, buona parte del campionato ed alcuni big match. Succederà anche domenica 1 ottobre, alla quarta di andata del girone di Serie D. Tau Calcio Grosseto si disputerà infatti al Carraia di Ghivizzano, ciò in considerazione anche della numerosa tifoseria al seguito della formazione mare in mana. Ancora calcio, scendiamo tra i dilettanti, il Castelnuovo affidato temporaneamente alla prima squadra, dopo l'esonero di Contadini, a Deo Premio, Carruezzo, il popolare Tony Golgui, direi giallo-blu domenica nella gara interna contro il Settimello, che si giocherà a San Romano Garfagnana. La scelta, la società ci tiene a sottolinearlo, è temporanea. Tra l'altro Carruezzo nel Castelnuovo ricopre già il ruolo di direttore tecnico, sempre in tema di allenatori. Aggiungiamo che Fabrizio, meglio conosciuto come Gino Tazzioli, è il nuovo allenatore della Massese, e qui siamo in eccellenza, debutterà domenica prossima in occasione della trasferta degli Apuani a Cecina. Dopo aver saltato il primo turno da testa di serie numero due del tabellone, Lorenzo Musetti debutterà sabato al torneo di Chengdu in Cina, avversario sulla carta abbordabile per il 21enne Carrarino, ovvero l'australiano Filip Sekulic, numero 325 al mondo. Riapertura agonistica dell'attività autunnale per la pugilistica lucchese. Ad aprire la stagione autunnale della pugilistica lucchese, la riunione di la Strassigna, dove hanno combattuto Federico Inguaggiato, Carmen Cozzi e Ashraf Lecal. Il primo a salire sul ring è stato proprio lo schoolboy, 46 kg Inguaggiato, opposto al fiorentino Giuseppe Pintus. Prestazione negativa del lucchese, che non è riuscito a ripetere quanto di buono fatto vedere al debutto, né dal punto di vista tecnico, né da quello tattico. Il verdetto è stato quindi quello di una giusta sconfitta. Sfortunata è immeritata invece la sconfitta di Carmen Cozzi, junior 63 kg che ha incrociato i guantoni con Marta Ludico. La pugile lucchese ha cercato di imporre il proprio pugilato, ma alla fine del match questo non è stato sufficiente. I giudici hanno infatti emesso un verdetto a favore dell'atleta di casa, che ha lasciato perlomeno perplesso il team lucchese. A chiudere in bellezza, l'élite 71 kg Ashraf Lecal, che si è confrontato con Cristian Iannucillo. Lecal ha preso fin da subito in mano l'incontro, sin dalla prima ripresa, nonostante la grinta e ripetuti e feroci attacchi di Iannucillo, abilmente neutralizzati però dall'estro del pugile nostrano, che adesso può concentrarsi sugli importanti campionati italiani Under 22 di Mondovì, dove punta a riservarsi il ruolo di sorpresa. Due notizie in breve dal mondo dei motori. Claudio Fanucchi torna in vetta al premio Rally a Cilucca, nella classifica copiloti al comando invece si porta Federico Grilli, qui vediamo Fanucchi. Al femminile in testa c'è Sabrina Cintolesi, prossimo appuntamento per questo premio a Cilucca, il rally delle colline metallifere nei giorni del 21 e 22 ottobre. E l'equipaggio lucchese, siamo sempre in motori, Vergamini Fabrizzi ha partecipato con la Ferrari 488 GTB al Gran Premio Nuvolari, penultima prova del campionato italiano Regolarità. E con una giornata d'anticipo, questi due piloti gentleman hanno messo in saccoccia il titolo di specialità appunto dei gentleman driver, l'epilogo del campionato a metà ottobre in Sicilia con la celeberrima Targa Florio. Una notizia anche di basket, bella prova di forza del Basketball Club Lucca che ha superato 80-71 l'US Livorno nella semifinale del 38esimo trofeo Città di Livorno Memorial Silvio Gatti. Adesso la squadra lucchese affronterà in finale lo Spezia Basket, sarà un'anteprima del campionato che poi inizierà la prossima settimana. Parliamo di hockey, un sabato speciale per l'hockey con la presentazione del campionato di A1 e della Lega Nazionale Roller Hockey. Sabato mattina alle 10 sarà presentato il centunesimo campionato di Serie 1 di hockey su pista presso la Sala Convegni del Parco Tecnologico Padano in località Cascina Codazza a Lodi con la presenza dei 14 capitani e rispettivi allenatori delle squadre partecipanti. Verranno illustrate le modifiche introdotte al regolamento di gioco. Saranno presenti il Presidente federale Sabattino Aracu introdotto da Francesco Ferrari interverranno anche le responsabili del settore tecnico Marcello Bulgarelli ed il coordinatore dell'ufficio stampa Stefano Zamperin. Sabato sera alle 21 poi al Paracastellotti di Lodi è in programma la gara di andata della Supercoppa Italiana tra i padroni di casa e il Trissino. Il ritorno in Veneto domenica 1 ottobre alle 18. In contemporanea sempre sabato mattina al Para Hockey Dolphin di Bassano del Grappa 19 società di hockey pista daranno vita all'assemblea costituente della Lega Nazionale Roller Hockey chiusa nel 2018 dopo più di 40 anni di attività e nel corso dell'assemblea verrà eletto anche l'organismo direttivo e rese note le società che hanno aderito. In una nota vengono spiegati i motivi di questa decisione e verrà anche realizzato un magazine settimanale dedicato al hockey su pista. Intanto venerdì e sabato alla Palaforte si svolgerà il trofeo Città di Forte dei Marmi con Sazzara, Vercelli, Montebello e Forte dei Marmi. Lunedì alle 18 nella manzarda del mutuo soccorso presentazione della squadra Rosso-Blu a Forte dei Marmi. E con le notizie dal mondo delle rotelle si chiude la pagina sportiva del TG Noi una breve pausa e poi naturalmente la linea va alla regia per una serie di preziosi suggerimenti commerciali.